O no, o bianchi, non sappiamo bene bere, certo, non è che è migliorata, amore, spaventata pure bene, guarda, 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 brava, 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 immagina, bene, bella finestra, ottima luce, no, che botte presa, amore, bella, quindi è un vero problema e sono molto vecchi e durati, ti devo aiutare, sono io, amore, sono io, amore, esercitiamoci insieme, poi ci faremo un carrellino, amore, se cresce un altro pochino, le bratelle sono ottime per te, direi, che tu vuoi giocare all'impiadi? Sì, ossia un buon cambiamento, sarà bello, vedo un po' di tendenza a Southwestern, sì, ci piace la stessa Southwestern, colori brillanti e forme geometriche, mi divertirò a giocarci, che altro? Che altro c'è? Che rimane? Il bagno, il bagno principale, sì, adoro i bagni, diamo un'occhiata, questo è il bagno principale, è lungo? È grande, è troppo, molto crema, senza dubbio, Un'unica con la vita, è tutto originale, ha circa 20 anni, la vasca, la usiamo? Non la usiamo, è stata usata una volta in 5 anni, posso far dire, ci mette voi panni?